Si chiude senza alcun punto l'ultima diandata della promoball Sanitars Gusago. Nel turno casalingo, valido per l'undicesima giornata, le Tigri, ancora falcidiate dalle essenze, vengono piegate per 3-0 da Marzola Trento. Nonostante le defezioni e una formazione completamente rivoluzionata, con 17 anni di età media, la squadra di coach Nibbio, che dà il benvenuto e schiera dal primo minuto il nuovo posto 4 Martina Moriconi, non rinuncia a lottare e prova fino all'ultimo a vendere cara la pelle, e riuscendo a rendersi ancora protagonista di una rimonta clamorosa nel terzo e ultimo periodo. Primo set c'è da affaticare subito per la promoball che, schierata con la diagonale Conti-Susio, Morriconi e Sandrini in banda, Ceri e Piantoni al centro e Salvetti libero, riesce a mantenersi attaccata alle ospiti solo nelle primissime battute. Poi tocca il 3-3, Marzola comincia a prendere strada fino a mettere un break di 5 punti tra sé e le bianco-rosse e a spingere il tecnico di casa a fermare il gioco, 4-9. Nella metà campo, ospite, muro e difesa girano a dovere e la sanità sfatica a passare, però il sestetto bresciano ha il merito di non sfilacciarsi e anzi con pazienza ricostruisce, approfittandone anche di qualche sbavatura di là della rete e spinta da un ottimo turno a servizio di Susio, a corcia 10-12, poi con una battuta affilata che non concede vita facile alle avversarie, si mantiene in scia, perviene al pareggio sul 17-17 con Morriconi, quindi passa anche avanti 18-17 grazie a Susio. A questo punto è il tecnico di Marzola a chiamare il tempo e quel che ne nasce poi, dopo un es di conti per il 19-17, è un punto a punto con la Sanitars che riesce sempre a tenere la testa avanti fino al 24-23 firmato da Piantoni. Sul 24-24 però l'attacco out bianco-rosso favorisce le ospiti, che poi sfruttano la prima palla set per chiudere 24-26 e portarsi in vantaggio. Secondo set, con il sestetto confermato e il fin del secondo periodo in apertura si discosta di poco dal precedente. La promo ball stenta concedendo un margine a Marzola 5-9, poi però ancora una volta si ricompatta e riesce a rientrare fino almeno 1-12-13. L'aggancio tuttavia non si concretizza e allora la formazione trentina ne approfitta per riguadagnare terreno, in un primo momento il tanto che basta a mantenere una distanza di sicurezza, poi allargando il divario 14-19. Pare il preludio e la fuga perfetta, invece le Tigri, cambiata la regia sul 13-18, hanno un moto d'orgoglio che frutta un 4-0, buono a rimettere tutto in discussione 18-19. Ma non basta, incassato il gran muro di Sandrini, gli ospiti fiutano il pericolo e lo scacciano rilanciando e chiudendo per il 2-0. Finale. A questo punto la Sanitas Gusago, formazione sempre confermata, accusa il colpo e di ritorno sotto rete vede Trento filar via presto 10-18. Prima che questa chiuda la pratica però la promobolo risolge. Da prima recupera tre punti, con Geronimo al servizio trova una striscia positiva, quindi con due ace di Susio va a meno due, poi concretizza il pareggio sul 22-22. C'è spazio ancora per un punto ciascuno, 23-23, poi un servizio bianco-rosso out, consegna il match ball alle ospiti che non sbagliano.